esci subito dal veicolo se proprio insiste sembra proprio che tu sia nato per prenderle da un'occhiata i modelli di dispersione non corrispondono sì se consideri le oscillazioni stagionali nei cicli di riproduzione di che parliamo esattamente? del numero di insetti ingoiati da Barry in un giorno di corsa prima o poi ti daranno il premio Nobel Barry! Barry, stai bene?